benvenuti a una nuova puntata della rubrica face to face oggi siamo in compagnia di andrea di vincenzo seo di prestiterra buongiorno buongiorno jennifer prestiterra lo sappiamo ormai è un agente in attività finanziaria di prestitalia anzi mi correga un top partner di prestitalia e oggi andrea di vincenzo è con noi perché prestiterra per il terzo anno consecutivo ha ricevuto da great place to work il riconoscimento di best workplace per la categoria di aziende con 149 500 collaboratori allora innanzitutto congratulazioni perché non è un risultato scontato grazie jennifer e poi volevo aggiungere che da una nostra analisi sui dati dell'oam riferiti ai soli agenti in attività finanziaria il risultato che nel 2023 quindi a fine dicembre 2023 prestiterra aveva una presenza femminile tra i collaboratori al di sopra della media del comparto e so che il numero delle collaboratrici anche cresciuto in questi primi mesi del 2024 quindi partirei da questi due presupposti per parlare di di vario di genere di flessibilità ma anche di benessere produttività perché molto spesso il benessere delle lavoratrici dei lavoratori si accompagna poi con una maggiore produttività della azienda e quindi come prima cosa andrea ti chiederei se e quali strategie avete adottato proprio per superare il divario di genere e per promuovere un ambiente inclusivo nella vostra azienda certo allora innanzitutto grazie jennifer e saluto tutti gli spettatori che ci seguono e per quanto riguarda il divario di genere in particolare in realtà non abbiamo adottato nessuna strategia in particolare lo dico così maniera scherzosa ma in realtà ecco voglio voglio esprimere il fatto che in prestiter in realtà non è mai esistito un divario di genere perché da quando prestiter è nata da quando io ricordi diciamo che una persona è una persona che sia un uomo che sia una donna è indifferente voglio dire è sotto gli occhi di tutti che una donna può performare tranquillamente come un uomo e un uomo può performare come una donna in realtà è questo che importa quello che importa davvero è che in azienda ci sia il rispetto dei valori no la condivisione dei valori il rispetto per le persone e un ottimo focus verso gli obiettivi che comunque bisogna raggiungere allora parlavi di produttività quindi ti chiederei a questo proposito come si coniuga la produttività con il desiderio di flessibilità che è stato crescente in quest'ultimo periodo anche gioco forza con il covid e il post covid quindi la mia domanda è come avete risposto al crescente bisogno di flessibilità e come si coniuga con la produttività da un lato e con il mantenimento di un ambiente di lavoro coeso dall'altro sì certo dunque diciamo che in ogni azienda il lavoro nella direzione della flessibilità è un processo iterativo e in ogni azienda questo lavoro è diverso anche perché è diverso magari il campo il campo di attività diciamo che in prestiter abbiamo affrontato questo processo eh un pezzettino alla volta eh soprattutto ascoltando le persone e rendendoci conto di quello di cui avevano bisogno per eh per essere più sereni e quindi eh di fatto poi per essere eh più produttivi quindi eh diciamo che da un lato devo dire che in prestiter le persone amano venire a lavoro quindi essere presenti nell'orario d'ufficio ed essere presenti in ufficio e questo innegabilmente è un fattore positivo di produttività perché si riesce ad avere un focus in un luogo in un tempo dedicati al lavoro e anche al fianco dei colleghi questo è un punto di forza innegabile diciamo della della sincronia del lavoro eh diciamo anche sul posto di lavoro. D'altra parte bisogna essere pronti eh al bisogno quando c'è bisogno di flessibilità che può essere un giorno può essere una settimana può essere un mese e in alcuni casi può essere può essere anche di più e quindi diciamo che eh ci siamo preparati eh tecnologicamente anche sotto il profilo dei processi per permettere a chi ne ha bisogno quando ne ha bisogno di lavorare in un luogo diverso eh o in un tempo diverso da quello canonico di ufficio. Io ormai conosco la vostra azienda già da un po' di tempo e mh ho sentito parlare spesso di feedback costruttivo e di eh fiducia nella vostra azienda e ehm volevo chiederti come promuovete come funziona proprio nel concreto la la cosa di promuovere eh una cultura del feedback costruttivo e della fiducia all'interno dell'azienda. certo questo questo ha a che fare questo ha a che fare con la cultura aziendale eh cioè eh bisogna eh rimuovere il pregiudizio che è abbastanza comune nel nel genere umano eh bisogna rimuovere il pregiudizio di avere già le migliori idee in realtà le migliori le migliori idee vengono eh spesso da eh persone o momenti anche inaspettati e e quindi bisogna eh umilmente ascoltare tutti tutte le persone in tutti i ruoli tutti i generi tutte le posizioni no apicali o anche operative e e questa umiltà questo questo atteggiamento di ascolto permette di ottenere un feedback vero un feedback autentico che poi può diventare costruttivo quando viene accolto e viene tradotto in un'azione di miglioramento. Questo è come affrontiamo noi questo aspetto in prestiter. Bene, visti i risultati conseguiti immagino che vogliate mh proseguire lungo questo percorso di promuovere un ambiente di lavoro appunto inclusivo nel quale i dipendenti, i dipendenti e i collaboratori sentano questo clima di eh fiducia e quindi ti chiederai quali sono le eh sfide ma anche le opportunità che vedi davanti a te eh proprio per proseguire mh nel proseguimento di questo percorso già iniziato. Allora diciamo che abbiamo eh quest'anno in particolare abbiamo ottenuto eh dei feedback molto molto positivi riguardo la qualità dell'ambiente di lavoro. quindi banalmente mi viene in mente che una una grande sfida eh è quella di conservare no pareggiare questo eh questo feedback questa questa qualità dell'ambiente lavorativo e creare un ulteriore miglioramento che eh non è semplice e e poi l'altra sfida è sempre questa rimane sempre fissa quella di coniugare eh l'aspetto delle performance aziendali con eh nel bilanciamento con la qualità di vita lavorativa e personale no perché spesso eh si è portati a pensare che la performance lavorativa eh porti piuttosto stress no piuttosto che eh che serenità. invece invece in prestiter ci piace pensare che affrontare il lavoro in un'ottica serena eh diciamo affrontare il lavoro con il sorriso lavorare proprio con il piacere no di soddisfare un cliente eh di aiutare un collega possa invece portare proprio quel benessere lavorativo che migliora sia la qualità eh della eh del lavoro e indirettamente anche la qualità della vita perché quando usciamo soddisfatti no alla sera eh dal lavoro torniamo a casa e abbiamo anche l'energia per per dedicarci alla famiglia e abbiamo anche un sorriso in più da dedicare ai nostri familiari ai nostri amici assolutamente vero assolutamente vero e Andrea io concluderei questa nostra intervista eh guardando con uno sguardo al futuro diciamo quindi ehm quali sono le eh tendenze che tu vedi nel mondo del lavoro e nella società per mh continuare poi nel vostro percorso di best workplace quindi eh quali sono le tendenze in atto e quali sono le tendenze che volete anticipare per continuare a a mantenere questo vostro risultato di conoscimento o il clima di fiducia insomma presso i vostri lavoratori e lavoratrici dunque io credo che il trend più importante sia proprio quello di misurare la qualità dell'ambiente lavorativo in questo senso l'istituto Great Place to Work fa un lavoro molto importante quindi questo è il trend più importante cioè avere il desiderio prima di tutto di misurare la qualità di questo ambiente lavorativo e poi il desiderio di fare concretamente qualcosa per migliorarlo e parlavo proprio con un esponente di Great Place to Work che mi diceva che loro stanno ehm ottenendo insomma una crescita piuttosto significativa di aziende che eh vogliono cimentarsi diciamo con questa certificazione questo è il trend più importante e l'altro trend è quello di dedicarsi sinceramente alle persone no? Si si legge qui nella nella frase qui alle mie spalle e eh questo è è un'attitudine eh che 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 in Prestiter è nativa e io credo che le aziende abbiano un ruolo fondamentale nella società e quindi in particolare nel eh accogliere le persone a farle sentire a proprio agio eh e diffondere una questa cultura del miglioramento del miglioramento continuo questa cultura della performance perché quando le persone ricevono eh un servizio particolarmente buono un servizio eccellente questo eh genera fiducia no? Le persone iniziano a fidarsi del prossimo e e questo in generale diciamo è un è un senso di fiducia che credo che sia che sia molto importante oggi. Benissimo allora io ti ringrazio per essere stato con noi e ehm spero di risentirti per i prossimi traguardi e eh perché no insomma avete fatto da apripista e siete un buon esempio anche per una best practice diciamo nel nel comparto. Allora spero di risentirti per parlare ancora di questo e altri successi che avrete raggiunto. Grazie Andrea Di Vincenzo e mh un appuntamento alla prossima puntata del nostro Face to Face. Grazie Jennifer e alla prossima.